Un nucleo di aria fredda in quota associato a una saccatura si muove dalla Francia verso il Mediterraneo e l'Italia. Al suolo una vasta area depressionaria insiste su gran parte dell'Europa. Un minimo si approfondirà nelle prossime ore sul Golfo Ligure. In Toscana sabato 2 aprile nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale associato a grandine. Possibilità di nevicate fino a quote collinari 5-700 metri, occasionalmente inferiori in concomitanza dei fenomeni più intensi. Schiarite in serata. Venti deboli variabili tendenti a disporsi da nord, mari molto mossi o localmente agitati, temperatura insensibile e diminuzione. Sulla nostra provincia cielo nuvoloso con possibili piogge. A Lucca temperatura minima 4, massima 9 gradi. A Castelnuovo minima 1, massima 6 gradi. A Viareggio minima 5, massima 10 gradi.